ciao buonasera siamo in diretta come state tutto bene allora noi siamo qui per una nuova puntata del gioca con marta attac siamo io e roxana ciao bianca bianca che non so se ci farà compagnia fino alla fine ciao bianca e in questo in questi mesi penso che avete già conosciuto il nostro gioco comunque se non l'avete mai non ne avete mai sentito parlare vi spiego brevemente in cosa consiste allora ogni settimana il nostro dt propone un progetto che ha di volta in volta dei vincoli uno obbligatorio e un opzionale che si devono rispettare per poter ottenere dei punti alla fine dell'anno questi punti poi serviranno per ottenere dei premi allora dico già i vincoli di stasera così ci togliamo subito il pensiero e anche la scadenza poi comunque ve lo ripeterò più avanti per chi si collega anche un po più tardi allora il vincolo obbligatorio di questa sera è quindi la struttura quindi fare la struttura che vi propone roxana questa sera e il vincolo opzionale è usare delle carte aluasid allora per quanto riguarda il vincolo opzionale vi ricordo che essendo appunto opzionale non è obbligatorio quindi se non ce le avete non le volete comprare insomma potete anche ometterlo perché quello serve solo per avere un punto in più e mentre intanto ecco che ho il telefono così posso leggere ciao Roberta ciao Simonetta chi si sta collegando ciao a tutti buonasera e mentre per quanto riguarda le scadenze allora la scadenza per questo gioco è l'otto luglio e mentre per il punto bonus se riuscite a farlo entro le 48 ore quindi vi darà un punto in più è il 30 giugno alle 22 e 30 quindi dopo domani ecco qui Cinzia Elisa ciao Alida ciao Alida ho visto che stai preparando per domenica ciao Laura sta preparando delle cose molto belle per il meeting di domenica bene quindi vi abbiamo detto adesso facciamo vedere un po meglio il progetto il progetto andremo a fare questa sera è un po difficile farlo vedere ma è un comodino che carino è un comodino con la sua specchiera perché tirando il cassettino la specchiera si alza perché il meccanismo della fustella è proprio adatto e quindi questa cassettiera ha cinque cassettini e in ogni cassettino ci sono dei mini albumini quindi i sogni nel cassetto cinzia lo sfondo l'abbiamo aggiunto al computer è un green screen non è vero non so se avete sentito Giorgio fa le battute come sempre ciao Erika ciao Milenia sì questa sera siccome fa abbastanza caldo abbiamo scelto di metterci in terrazzo alla fine adesso la luce c'è diciamo perché ancora non è diventato buio vediamo se in questa ora magari diventerà troppo buio spero di no grazie ciao Agata il comodino vai vai due tipi di albumini uno più semplice uno più complicato ma non troppo uno dei albumini mini è tipo accordion e quindi è fatto così racchiude le foto della scuola di bianca e quindi e poi dai cut di di aluacid di della collezione io per realizzare questo progetto ho usato le carte di di patio sì le carte basic invece adesso per realizzare il progettino il progettino ho usato le carte di aluacid adesso vi faccio vedere anche l'altro albumino e poi partiamo con i materiali e con il progetto ecco qua l'altro albumino e cosini è fatto a libricino beccato quello che devo ancora mettere le foto ma adesso prendo l'altro ecco qua il cassettino dove c'è l'albumino pure tutti questi die cut sono veramente giganti che occupa la copertina del mini album molto semplice appena ho visto questa questa fustellina mi è piaciuto tantissimo e ho pensato subito a questo progetto quindi mi sono messa subito all'opera ok partiamo con i materiali lo lasciamo qui così si vede un po' giusto? si vede? si 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 intravede ok per il progetto ho usato la linea basic della carta di Martha Tuck che ormai la conoscete straconoscete il candido ottima ho usato la carta di aluacid il pad poi ho usato la fustella di Tony che la conoscete perché ha il meccanismo pop up per quello che fa ho pensato subito al meccanismo dello specchio e praticamente usiamo quattro fustellati solo la scatolina e un fustellato con il meccanismo pop up e poi ci sono le fustelline che fanno da matatura al fronte cassettino e al retro del cassettino e anche il laterale ok poi materiale utilizzato ovviamente lo specchiato che mi si vede una faccia lo specchiato Martha Tuck e per la copertina ho preso i due vegetali ma uno è più sottile sì ho usato quello da uno e mezzo che è il nuovo vegetale Martha Tuck che ha un prezzo più economico rispetto agli altri l'ha presentato tra le novità e quindi direi che possiamo partire con il progetto allora intanto salutiamo Giorgia, Giussi, Saretta ciao ciao a tutti ciao a tutti vuoi salutare anche tu Bianca? allora per prima cosa andiamo a montare io ho già fustellato per non perdere tempo ho già fustellato le scatoline però mi sono lasciata due per montarle insieme in diretta ok quindi partiamo perché questa fustella fa già le pieghe quindi è praticamente già già pronta all'uso perché non rimane che marcare solo un pochettino le pieghe è praticamente la la fustella il fustellato è già pronta quindi il cassettino manca solo la colla o il di adesivo sei triste amore ma aiutami perché sei triste? come fai? no tu guarda questi dai cazzi ci sono tutti pronti ovviamente Roxana ha usato la fustella sia per comodità e sia soprattutto per il meccanismo che ha deciso di mettere sopra al suo comò e ma potete comunque replicarlo anche senza fustella se non l'avete se non ovviamente la fustella vi dà proprio la possibilità di velocizzare il lavoro ed è la peculiarità è proprio questo meccanismo che lei ha messo sopra esatto e la cosa bella è anche l'idea che ha avuto Roxana di questa specchiera che come tiri il cassetto viene fuori quindi questa cosa senza fustella insomma non credo che riusciate a replicarla se volete se vi volete cimentare insomma provateci lo stesso ciao Isabella ciao a tutti chi sta arrivando ditemi se sono nell'inquadratura giusta perché guardando dal telefono è molto più complicato per il momento sì per il momento per il momento Sto usando a staccola, che basta poco. Quindi avendo già le pieghe è molto molto semplice e soprattutto questa fustella parte il mio comodino, il mio comodino, però si presta a fare anche tanti altri lavoretti, scatoline di ogni genere. Quella è fatta a sua misura che il castellino scorre proprio perfettamente. Ok, quindi la scatolina è pronta. Sì, Giussi, praticamente la nuova collezione di Aloisid, che si chiama Playa Piscina. Ok. Il pad grande, se non erro, è terminato. C'è quello molto bello delle carte, chiamiamole basic, che comunque ha anche delle fantasie piuttosto piccoline, anche piuttosto versatili, che riprendono i colori del pad. E il cartone vegetale, sì, abbiamo preso, insomma, nella cartiera dove prendiamo anche la carta martellata, è uscita anche la carta effettolino e c'è anche il cartone vegetale, sia da 1,5 che da 2 mm, stiamo parlando ovviamente. Che ottimo, io li ho provati tutte e due, veramente ottimi. Ok, in ogni caso, come sempre, trovate il link con il prodotto contenitore, penso che Pier Giorgio già l'abbia messo, con tutti i prodotti che ha utilizzato Roxana per questa diretta. Ciao, Chiara. Ci stiamo. Tutto bene, Bianca? Ti stai divertendo? Bene, mi fa l'assistenza stasera, Bianca. Ho incollato prima le scatoline, il fondo del cassettino, adesso facciamo l'altra parte. Ok, quindi due cassettini ce li abbiamo, adesso andiamo a incollare. Ma non si mi manca. Sì, questo qua lo lasciamo qua. Quindi andiamo a incollare, quindi andiamo a fare la parte sopra, che è quello che poi ci permette a impillare i cassetti, per costruire la cassettiera. Ok, con le pieghe già premarcate è tutto molto più semplice. E' più veloce soprattutto. Esatto, soprattutto se devi fare magari delle bomboniere, ma anche i cinque cassettini veramente le ho fatti in un attimo, perché la piega già fatta è molto più veloce. E' molto più precisa, perché la taglierina poi, come sappiamo, mangia sempre qualche millimetro. Ok, andiamo a incollare anche l'altro. La tua aiutante si sta rivestendo con i die cut, mi sembra. Sì. Vero? Sì, un po' nell'angolino. Mi ha detto mamma, posso farci l'assistente stasera? Certo, puoi scappare. Ok, quindi un cassettino. Poi il senso di questa costella di Tommy è che tu puoi incollarla facendola proprio appiattere completamente, quindi avere veramente una precisione perfetta. Io ho già preparato i miei tre cassettini, così la diretta non dura fino a mezzanotte, e quindi andiamo a incollare l'uno sopra l'altro. Ok? Nel quarto cassettino, poi l'ultimo al meccanismo. Quindi non ci rimane che... Aspettate, questo cassettino sì. Quindi vado a mettere con la... Ditemi se si vede, se vado fuori, che scappo. Ok. E quindi vado praticamente ad appoggiarmi sopra perfettamente. Per agevolarmi tiro via il cassettino, così vado a incollare perfetto dritto. Così ho lo spazio qui al centro, libero, da posizionare il cassettino perfetto. Sia sui lati che i laterali. Ok? Ancora un pochettino che fa presa. E quindi praticamente il quarto cassettino è pronto. Adesso in qualche cassettino, non so in quale... Io avevo i fustellati. Ti troverò? No? Cassettino? Cassettino sbagliato. È pronto quello lì? Grazie amore. L'hai fatto benissimo. L'hai fatto benissimo. Ma mancano tutti gli altri. Mancano tutti gli altri. Adesso. Prendiamo qui. Mi mamma non lo fa. Piano, eh? Che quello lì mi serve. Aspetta che mi sono persa. Bianca. E qui ho tutte le mattature già fustellate. Fronte, retro, cassettino. Anche perché sono anche leggermente smussate, tondeggianti, diciamo. Sì, infatti mi piacciono tantissimo. Sono molto belle, sì. Anche a te? Wow. Fai vedere qui. Fai vedere qui al centro cosa piace a te. Quello, ecco. Mi piace a dormire tutti. E poi la sirenetta. La sirenetta piace? Anche a me mi piace. Quindi andiamo a incollare la nostra matatura che è precisa. Sono buffissimi. Sono buffissimi. Giusto. Buongiorno. Ok, andiamo a incollare. No, perché l'ho già incollato, perché sono sbagliato a incollarlo prima. E quindi andiamo a mettere il nostro cassettino, che è il quarto. Ok? Adesso questo è già pronto. Anzi, portiamoci avanti con le mattature. Quindi poi siamo, ci dedichiamo solo al meccanismo di sopra. Ma stai facendo la storiella bianca? No, perché dopo la mia piccana c'è più bella. Ah, davvero? Sì. Ah, mi fai tu vedere dove? Guarda che mi fai traballare il tavolo. Se vuoi andare a colorare? No, non è così. È così. Si è stropicciata. Si è stropicciata. Quindi devi stare, come ho detto io, attenta. Molto attenta. Sì. Ok. E se non ci scuso, che succede? Che succede? Che succede? Andiamo a mettere anche qui la mutatura. Che succede? No, non ti danno un miscolaggio. No, no, cazzo, perché tu non ti ho fatto un po' di vedere. Eh, stai molto attenta. Non sto picciare i miei dei cazzo, che mi piacciono tantissimo. Bianca, dai. Allora, quindi andiamo al meccanismo. Però il meccanismo va in collatto dopo. Adesso andiamo a fare, a incollare la scatolina, se li ho fatto bene. Però devi essere una brava assistenza, perché se mi pieghi le cose, io sai che poi piango. Non sai che sono gelosa delle mie cose. Ok. Quindi andiamo a incollare l'ultima scatolina. La scatolina, com'è che si gira, così, perfetto. Il meccanismo va aggiunto, diciamo, quasi alla fine, perché va incollata una parte sul davanti da una parte sul cassettino dietro, così riesce a tirarlo. Ok, andiamo a incollare anche questo pezzettino laterale. Il progetto è molto facile. E' più facile a farlo che non a dire. A dirlo. Scusate. Un giro di parole. Infatti, anche Cinzia, appena scritto, sei velocissima con queste fustelle. Infatti, la comunità delle fustelle è proprio quella, velocizzare il lavoro e renderlo anche pulito e preciso, tutto uguale. Quindi, anche il cassettino di sopra è a posto. Adesso vediamo se... Io vi ricordo come si fa. Vediamo... Da una sbirziottina a posto? Vai, vai, dai la sbirziottina. Quindi, questo qua viene piegato così, poi questo qua viene sul cassettino così, invece questo viene piegato così. Ah, quindi è una specie di zigzag. Ok? Quindi, questo pezzettino qua viene incollato qui, perché è fatto proprio su misura. Vedete? Un pezzo viene incollato su davanti e un pezzo all'indietro. Questo pezzettino qua, andiamo a incollarlo qui, togliamo un cassettino che così siamo più comodi. Vedete? Lo incolliamo qui. Ok. Nell'altro invece passa dentro e verrà incollato sul... Sul retro. Sul retro. Ok, quindi come scorre e poi se lo porta sopra? Esatto, lui si appetisce così e quando il cassettino si tira, lui viene. Molto carino. Sì, davvero, questa volta Tommy ha fatto una bella fustellina. La cura magari la mettiamo più qui, che così sono più comoda. Ok, quindi andiamo a incollare qui il pezzettino. Che è fatto esattamente su misura, proprio perfetto. Vedete? Sulla parte davanti. Qui dove lo incollate è uguale, perché comunque la scatolina è simmetrica e quindi va dentro a sinistra. Adesso andiamo a mettere il cassettino dentro. Vedete? E quindi l'allettina del meccanismo si posiziona già direttamente. Quindi noi andiamo a tirare il cassettino e il meccanismo viene tirato. Lo vedete? Sì, sì. È proprio molto facile anche per chi magari inizia adesso. Ciao Roby, buonasera, anche a te. Quindi andiamo a mettere un po' di spulla qui. E quindi andiamo a posizionare esattamente qui. Ok. Lasciamo che faccio un po' di presa. E quindi andiamo a posizionare esattamente qui. E qui questo pezzettino poi non si vede più perché andiamo a incollare la mattatura sopra. Quindi non è più visibile. Lasciamo che si colla. Andiamo. Per non perdere tempo andiamo a incollare la mattatura laterale. Ma con chi stai parlando Bianca? Con nessuno? Con le tue sirenette? No, ma stanno parlando loro. Ah, stanno parlando loro, ho capito. Ma vuoi raccontare qualcosa ai miei amici? No, non si chiede bene. Ma raccontiamo cosa abbiamo fatto lì sera. E quando eravamo nell'aereo? No, quando eravamo nell'aereo. Dove siamo andati lì sera? A mangiare la pizza con i tuoi compagni, la maestra. Di nuovo vuoi andare? No, no, siamo tornati troppo tardi. Vorrei andare, sì, però non si può. Dobbiamo prenotare. Eh, mica la pizza ce la mandano. E qui? Mamma mia, lei è la piccola. Allora, aspetto un po' a tirare il castellino che ho paura. E il papà? Mamma mia e il papà? Sì, lui e il papà. E quindi poi qui sopra mettiamo lo specchio. La mamma mia è la piccola che si è cambiata. Perché lo specchio è quindi fustellato con il pezzo della fustella che serve. Esatto. La mamma mia è la piccola che si è cambiata. Sì, sì. Ok, quindi vado a dargli un po' la piega qui, perché andrà incollato qui e l'altra parte qui sul retro dello specchio. Vediamo se il meccanismo... C'è una bella idea questa dello specchio. Sì, si è incollato. Vedete? Sta. Quindi lo specchio andrà un pezzettino qui e un pezzettino incollato qua. Adesso andiamo a mettere un po' di colla qui. E poi la colla va messa solo sul primo quadratino rettangolino. Un quadrato. Ok. Se avete domande, chiedete pure. Sono qui a disposizione. Ok. Teniamo un po' premuto perché la colla la c'è presa. Dal video non si vede bene, ma immagino che tu abbia usato l'argento, giusto? Sì, sì, è argento. Lo specchio, sì. Sì, si vede così? Perché fa riflesso e in effetti sembra un po' dorato. No, perché la cover è rosa. Allora, allora fa riflesso la cover del telefono. I riflessi un po' strani. No, no, è argento perché giustamente lo specchio. Lo specchio, certo, sì, sì. Quindi lo specchiato, Marta Tach, fa anche da specchio. Eh sì. Adesso teniamo qui e poi andiamo a schiacciare un pochettino all'interno che è la faccia presa. Ok. E quindi il nostro specchio è a posto. Vedete? È carino. Quindi si è incollato. Adesso non ci rimane che qui la matematura è stata messa. Andiamo ad incollare lo specchio sulla nostra cassettiera, che ci sono quattro cassettini già pronti. Andiamo a incollare. Chiediamo io un cassettino. Bianca, se vuoi andare a fare la storia dall'altra parte. Ok. E quindi andiamo a incollare uno sopra l'altro. Poi dopo che l'avevo finito, il mio comodino, il primo, mi è venuto in mente che si potrebbe fare anche un'altra pila di quattro, di cinque, aspettate che mi aiuto qui all'interno a schiacciare bene. Qui è dritto. Sì, perfetto. Qui con il cassettino aperto vado a schiacciare bene. È bella come è bella. Sì, è bella come è tela, si rimane. E praticamente il nostro comodino è pronto. Ok. Le mattature ci sono. Dappertutto. Qui mettiamo il cassettino. Ok. Che poi scorrono che è una meraviglia. Quindi siamo a posto. Adesso poi sarà da... Guardate che bello. Mi piace troppo, starei ore a tirare il cassettino. Non mi mangi indietro. Ok. Vi dicevo prima che guardate che è bello anche farlo così. Più ampio, magari da mettere più forte. Che viene una scatola, uno scatolone, con due specchi, maschio e femmina. E con tutti i cassettini con gli albumini. Ok. Andiamo adesso a costruire gli albumini e poi andiamo di decorazione. Ok. Anche se... Però vi faccio vedere dopo. Per fare gli albumini cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del cartone vegetale. Ok. Adesso andiamo a vedere le misure. Mi servono due pezzettini di cartone vegetale che misurano 5,5 cm per 8 cm. Perché? Perché il cassettino all'interno misura così. Per avere un po' di gioco sia come larghezza e altezza. E quindi andiamo a fare gli albumini. Io ho scelto per farli un po' diversi per giocare con la carta. Andiamo a fare questo qua, il mini albumino con il cartone vegetale. Ok. Ne ho fatti due albumini così e invece tre più semplici che sono quelli tipo cordeon. li ho rivestiti in modo molto semplice perché questa è la carta che ho scelto per rivestirlo. Andiamo poi a tagliarla da... Quanto era? L'avevo scritto. Adesso vado a recuperare le misure. da 8, che sarebbe l'altezza, che è l'altezza dell'albumino, 8 x 8,5 cm. Adesso vi dico il perché. Quindi andiamo a prendere la taglierina. Le andiamo a tagliare. Questa è già tagliata 8 cm. Però è questa... No, non è questa la carta. Spettate. Non è questa la carta perché questa fa altre cose. Vado a prendere due pezzettini di carta. Allora, mentre Roxana va a prendere la carta, io vi ricordo che per fare questo progetto bisogna replicare la struttura così come la proposta Roxana, quindi i cassettini e gli albubini. Mentre il vincolo opzionale è usare le carte all'Uasid. La scadenza è quella dell'8 luglio alle 23.59, mentre per il punto bonus il 30 giugno alle 22.30. Quindi abbiamo detto che ci serviva 8 come altezza, invece come lunghezza sono 1,5 più 1,5 e sono 3. più 3 cm per 5,5 sono 8,5, giusto? C'è qualcuno che è bravo in matematica? Io mi sono un attimo persa. 3 cm, sì giusto, 8,5. Adesso vi spiego perché. Stavo vedendo se c'erano commenti, quindi mi sono un attimo distratta. Quindi misura 8,5 per 8 di altezza per vestire il cartone vegetale. Andiamo a fare una piega a un centimetro e mezzo solo da un lato. Ok, perché adesso vi spiego perché. Quindi andiamo a fare la piega sul lato da 1,5. Andiamo a incollare perché il cartone rimane comunque a vista. Vi dicevo che è una rilegatura di un mini albumino molto semplice. Non ho fatto un centimetro e mezzo anche qui, la piega già. Perché? Perché il cartone avendo lo spessore mi mangio un po' di carta. Quindi se la faccio poi mi rimane a vista che magari non è precisa. Quindi vado a incollare. Bianca c'è tanto da fare, vedo sì. Quindi il cartone vegetale Marta Tag da 1,5. E vado a incollarlo a filo della piega. E a filo sopra e a filo sotto. Ok? Adesso andiamo a incollare la lettina da 1,5. Ma che bella storia che stai raccontando Bianca. Tu sei brava con le storie, davvero? Wow! Ok, invece qui, non avendo fatto la piega, vado a crearmela direttamente col cartoncino. Così mi viene perfetta. Anche se poi non è precisa un centimetro e mezzo, però comunque ha un buon margine. Pensavo di averli già preparati, questi due pezzettini, però si vede che mi sono persa. Capita anche a voi, vero? Sì, sì. Sì, sì. Ok, abbiamo una pieghetta. Visto che abbiamo attrezzi giusti. Ok. E quindi una copertina è pronta. Qui viene a filo, quindi non si vede praticamente perché viene... Anche se io ho usato questo grigio, però non si vede praticamente... non si nuota e non spara che non è rivestito. Questo perché? Per fare anche cose più semplici. Quindi una copertina è a posto, però a questo punto la copertina la facciamo uguale sul retro la copertina, o vi piace farle diversi? Vediamo come lo ha fatto io, l'altro albumino. C'è questo qua. Andiamo a vederlo insieme perché io ho un albumino e l'ho già fatto. Ecco qua, ho usato questa carta dei pesciolini che mi piaceva tantissimo. Vedete, io l'ho già realizzato uno, si vede, non si nota neanche il vegetale e quindi ho un mini albumino fatto a libricino. E qui ho usato anche la cimosa perché comunque sta bene. Questo per risparmiare l'altro pezzo di carta che magari può servire per una pagina diversa. Qui l'ho fatto uguale a paginette. Erika suggerisce diverse. Diverse, ok. Bene, allora diverso per diverso devo andare a prendere nella scrapbook. prima, ma tanto c'è in qui. Possiamo farlo così. Il pad davanti, che ne dite? Facciola vedere insieme a quella che hai usato. Quella che ho usato, aspettate, è questa qua rosa col po' A e queste righe. Ok, sì, si sta bene, sì, sì. Ci può anche stare. Se non possiamo mettere col fiocco? Anche le righe rosse mi piacciono, col fuo a rosa ci stanno. Ci stanno? Sì. Magari orizzontali? Che dici? Orizzontali? Che fa tipo così? Davanti così e dietro così? Sì. A me piace. Che dite voi? Ci può stare? Perché non sognare? Qui ho tutti i miei taglini del pad. È molto bello. Le righe rosse anche Ilenia dice. Vedi? Ve l'hanno appoggiata. Andiamo a dire righe rosse. Ci piace? Sì, dai. Ok, quindi le righe orizzontali? Vai, vai. Abbiamo detto otto e mezzo. Giusto. Quindi orizzontale per otto. Ok. Perfetto. Adesso, quindi orizzontale, facciamo la piega a un centimetro e mezzo da un lato solo. Perfetto. La taglina ci servirà. Perfetto. Viacca. Un po' di silenzio. Quindi come prima ho fatto una piega di un centimetro e mezzo su un lato solo. Adesso vado a mettere come là sul vegetale. Ok. E quindi vado a filo della piega. E sto attenta sui laterali di non coprire il vegetale. Invece a filo. Ok. Andiamo. Vediamo tutto bene. Per fortuna la colla ci dà sempre la possibilità di imparare i nostri piccoli errori. Ok. Perfetto. Questa è la colla. La metto qui. Io passo davanti. Ecco, qui servirebbe la spatola che non ce l'ho ancora. E' ottimo, perché metti solo una striscia, la spalmi e quindi risparmi un po' di colla. Ok. E quindi andiamo a piegare su se stesso il vegetale perché essendoci rigido ci permette di fare la piega, quella giusta per lui. Ok. Andiamo a mettere. Bianca, un po' piano, ce la fai? Ok. E la copertina è finita. Vedete? Ok. Quindi abbiamo detto che questa la mettevamo davanti, invece questo sul retro. Ok? Perfetto. Adesso, per realizzare l'interno di questo mini albumino, io ho deciso di usare sei paginette che misurano 8 cm di altezza, che sarebbe l'altezza dell'album, per 11. L'ordine delle pagine, ce n'è uno anche con le righine, che anche qui ho lasciato la cimosa, perché fa pandan con la fantasia. Anche qui, e anche qui. Perché questo centimetro e mezzo qui sta bene, e l'ho risparmiato per magari una pagina che è più importante rispetto a questi pezzini più piccoli. Questi misurano 11 cm per 8, piega a 5,5, che è esattamente la larghezza dell'albumino. però qui non mettiamo quella. Quale mettiamo sulla copertina? Questa con la frutta? Che dite? Ma prendiamo di frutta. Quindi sono sei paginette di 11 cm per 8, con piega a 5,5, che è la larghezza dell'albumino. E poi viene incollata una con l'altra. Ho usato la pattern solo stampata da un lato, perché siccome i due latti poi vengono incollati così, per creare le pagine interne, non serve freccare la patterned double face. Ok? Quindi andiamo a piegare subito le altre paginette. Ok. Anche questa qua con le bolle è molto bella. Sì. che mi è venuta adesso in mente, volendo, ci possono colorare di azzurino, che fa l'effetto acqua, con un po' di Tommy, che acquarello pochissimo. Allora, le paginette come li mettiamo? Aiutatemi. Questa abbiamo detto che è la parte davanti, la copertina. Questa è la parte retro. Questa abbiamo detto che la mettiamo qui. La seconda paginetta qual è? Qual è? Quale la mettiamo? Le bolle. Le bolle. Ok. Aggiudicato. Quindi non faccio altro che incollare una con l'altra. La Marta ha già scelto questa con le bolle. La prossima la scegli tu? Sì, io scelgo sia la personaggia. La personaggia. Ma che italiano parli, la personaggia? Il personaggia, volevi dire? Sì. Ah, ok. Eh, si vede che la scuola sta finendo. Ok. No, domani si va a scuola. No, domani si va a scuola. Ok, quindi la prima paginetta. La seconda. Mettiamo la terza paginetta. Qual è la terza paginetta? Io metterei questa solo la copertina, l'ultima, o il fiocchetto che stacca. Va bene, metti la ricchia, adesso andiamo. Sì, poi la mettiamo lì. Andiamo con le righe. La terza paginetta. Andiamo a incollarla. Una con l'altra. Bianca. Sì, un po' di silenzio mi serve. Perché se no incollo... Guarda, ho già perso... Abbiamo detto con le righe. Lui è il marito e lei è la moglie. Lui è il marito e la moglie, va bene. Facciamo una bella storia. Ok. Il dorsino viene così a vista, però è anche carino. Ok, quindi abbiamo frutta, le bollicine, le righe. Pensa, Marta, se sceglieva il verso della copertina in verticale. Ah, infatti. Io prima è andato proprio perfetto. Ecco, marito e moglie c'è qua. Cosa mettiamo? Questa la mettiamo sulla copertina con rosa? Ci sta? Sì, perché stacca. O mettiamo rosa? Aiuto. No, metti adesso il rosa e quell'altro, come dici tu, tienilo sulla copertina. Va bene. Ma mi sa che ce n'è un'altra lì dove hai messo marito e moglie. Non hai perso una pagina. È vero, è bianca. Ok, quindi mettiamo, abbiamo detto che mettiamo il fiocchetto in mezzo. Sì, è quella che stacca, giusto? Ok, andiamo. Mettiamo in colla. Quindi il rosa. Quindi questi albumini sono molto semplici perché se il taglio è preciso noi andiamo a incollare uno sopra l'altro. Nell'albumino è già che pronto. Una rilegatura perfetta. Ok, quindi mettiamo i sciocchetti qui. Ok. Ci siamo. Ok. Anche questa carta è molto bella, i sciocchi sono molto delicati. e quindi il dolcino sta crescendo. E adesso andiamo a incollare l'ultima paginetta. Quindi in totale sono 12 facciate, giusto? Perché hai fatto 6 ripiegate a metà? Sì, penso di sì. Se la mia matematica... Non è un'opinione. Adesso poi bevo. Ok. No, però poi sono incollate. Sì, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, esatto. Perfetto. Sì, sono 12 facciate che poi una... Io ho scelto di decorare una e l'altra di metterla a foto. Non so se... Dov'è? Non è questo. Non è questo. E' questo qua. Ok. Andiamo a vederlo. Ok. Quindi questa è la copertina. Quindi qui ho decorato. Poi si possono mettere... Qui decorazione. Qui la foto. Si possono fare in mille modi. E adesso non rimane che incollare. Sullo stesso principio. Sullo stesso principio. Le copertine. Attenzione quindi. Nell'incollarli. Più a filo sulla parte retro. Che non sulla parte davanti. Perché? Perché... Io vado a incollare qui a filo. Così. Vedete? Perché se io vado a incollare a filo qui. Poi quando vado con l'altra copertina. Cosa succede? Vedete? Che si toccano. Che si toccano. Quindi non mi permette poi di aprirlo così. Piatto. Dal buonino. Quindi le due copertine vanno incollate. Tenendo il filo qui. Che così rimane più distanziato da una parte all'altra. Ok? Quindi. Guardiamo il verso. Prima di sbagliare. Perché è facile sbagliare. Se non si sbaglia è meglio. Ok. Quindi. Qui è il dorso. Quindi io vado a mettere. Quasi a filo. Anche a filo. Ok. Si vede? E poi lo apro e vado a giocare con la mia paginetta che si è incollata. Bene dappertutto. Ok. E il dorsino si presenta così a vita. Semplice. Molto semplice. Adesso andiamo a incollare la parte retro. Praticamente il progetto è finito. Non so neanche che ore sono. Si è già passata mezzanotte. No. Non ancora. E quindi vado. Lo tengo così. E vado a posizionarmi così. Ok. Lo posiziono un po' che sia diciamo che a filo. Lo apro e vado. Perché vedete cosa vi dicevo? Quando io apro lo spazio. è meglio guardare il filo sulla parte del dorsino che non, anche se rimane qui un po' di spazio. Non so come macacchino. È carino. È carino che si vede un po' tanto c'è la... Sì, sì. Però è l'importante non puoi incollarli troppo perché poi non hai questo gioco. E quindi ti blocca e ti rimane magari aperto così. Che a me non posso. Ok. E quindi adesso arrivo alla parte più bella che sono spariti lì dai cat. Eh, li aprissi tutti bianca. Sì. Quindi proprio pensi. Bianca dove sono dei cat. Ne sai qualcosa? No, perché ce l'avevo pieno questo barattolino. Sulla coperta. Sulla coperta. Non posso più di vedere dove li ha messi. Ok. Andiamo a realizzare gli altri due mini. che sono quelli fatti tipo ad accordion. Ok. Allora. Quindi ne ho fatti due così e uno ad accordion. No, scusami. Uno così e due accordion. E tre accordion. Uno accordion è qui. Sì, no. Due con la copertina rigida e... Ah, non avevo due accordion già pronti. Ah ah, adesso a voi la scelta. Non mi ricordavo, pensavo che queste strisce servivano per fare l'accordion. Però si vede che io le avevo già preparate prima. Vedete? È caldo. Ok. Quindi avevo già preparato un accordion. Quindi lasciamo questo? Sì, è carino. E qui è praticamente la patterned double face. Perché? Perché è a vista sia da una parte che dall'altra. Adesso ne facciamo... Qui è pronto anche il secondo. Che qui è solo da fare le pieghe. E anche qui ho lasciato la cimosa. Sia da una parte che dall'altra. Perché è molto bella. Mi piace questo effetto. Anche sulle pagine non è male. Ok. Quindi questi due sono già pronti. Perfetto. Andiamo a realizzare uno. Perché manca il terzo. E poi stanno perfetti qua. Anche se mettiamo foto e abbellimenti. Non i keyboard. Però i die cut si alza. Adesso non so quanto altezza abbia questo. Due centimetri. Quindi hai voglia di mettere foto e abbellimenti. Adesso decidiamo come fare il terzo mini album accordion. Quindi uno è questo. Il secondo è questo. Ditemi voi il terzo. O la scritta o la pera. Quale scegliamo? Per scritte. Per scritte. Va bene. Ok. Praticamente questa stescia praticamente tutta la lunghezza del foglio. Sì. E 12 pollici. Ho lasciato tutta la lunghezza di 12 pollici. Anche lì per risparmiare carta. Perché se poi mi avanza una strisciolina cosa faccio? Qui andiamo solo di piega. Quindi la lama giù. Giù giù. E andiamo a fare la prima piega a 5,5. Quindi misura 8 di altezza per tutta la lunghezza che sono 12 pollici ovvero 30,5 centimetri. Quindi andiamo a fare la prima piega. Però no. No. Queste erano le cupertine. Perché la scritta. Ah, quello è. Devo vedere se nel pad. Facemi vedere se nel pad. Mi è avanzato perché ho realizzato un albumino. Se nel pad trovo la scritta. Sì. C'è. C'è, c'è, c'è. Facciamo con la scritta. Visto che è stata scelta la scritta. Si riesco di recuperare. Arrivo, eh. Non andate via. Se no vi prendo tutti e vi metto nel comodino. In questo caso ci sono le bolle. Ci sono quelli che ho usato per metterle. Qui abbiamo tutti avanti. Questa scritta portiamola via. Ok. Ci siamo, eh. Qui teniamo la cimosa, no? Perché non si può tenere perché sul retro è qua. Le bolle rosa. Quindi andiamo a tagliare una striscia di 8 centimetri. Ok. Perfetto. Le bolle rosa? Le bolle rosa, no? Sì, guardali. Perfetto. Quindi abbiamo detto 8 centimetri per tutta la lunghezza della carta. Andiamo a fare la prima piega a 5,5. La lama giù, mi raccomando. Non si può tagliare. 5,5. Poi ci spostiamo a 11. No, 13. 11. 11. Perché sarebbe il 5,5 piegato, moltiplicato. Tu preparasi. E quindi 5,5 e 11. 11 più 5,5 sono 16,5. Ecco, la taglierina è perfetta. Perché sapete che il 16 è un po' in bilico. E poi andiamo sul 22. Ok. E poi 27,5. Ok. 27,5 e qui ci avanza un pezzettino. Che sono... Aspettate che non riesco a non dire quanto mi avanza. Dove ho fatto la piega? E qui. Ecco, con la pattern si vede. Quindi questo pezzettino qui adesso vi faccio vedere un trucchetto. Spostiamo qui. Quindi abbiamo una, due, tre, quattro e cinque pieghe. Quindi non facciamo altro che piegare. Molto semplice. Accordiamo. Andiamo a marcare le pieghe. Sì, questa scritta è molto bella. Anche se in spagnolo non ci capisco niente. Però, bene. È bella. Questa allettina qua sembra strana. Però è bella. Perché? Perché l'accordion viene così. E così. E... Qui si può mettere un po' di colla qui. Un po' di colla qui praticamente viene come una... Una... Abbiamo messo questa qui più piccola. La taschina? La taschina. Da mettere... Ovviamente dentro poi... Essendoci da otto... Si sta proprio piccolino. Se no, io l'ho incollato sopra. L'ho incollato qui e qui. L'ho lasciato la taschina. Quindi non so. Per mettere una taglina piccolina o una foto. Dove su un l'altro? Dove l'altro? Eccolo qua. Che forse qui non ho messo le foto. Questa linea. Chiudiamo il cassettino. Ok. Vedete? Sta scappando. Qui è libero. All'interno. E libero. E questi die cut sono molto belli. Quindi io li ho incollati solo sulla parte della lettina. Così se voglio usare come tasca lo uso. Se non lo uso. Quindi gli accordi on. E quindi ho scelto di fare tipo foto-foto e abbellimenti. Questa parte mi l'ha già scritta. E quindi anche qui tre foto. Comunque ci stanno tantissime foto in questo comodino. Proprio dei bei ricordi. Adesso quindi l'albumino è pronto. Andiamo un po' a decorare. Che ne dite? Bianca mi porti un po' un po' di die cut che mi servono? Sì un po' tutti. Mettimeli qua vicino così scegliamo insieme. Quali metto? Quello lì. Questa collezione è molto ricca. Quindi anche qui. E qui sopra Bianca? Ecco. Dai portami un po' di die cut. Portali tutti con. Cosa mettiamo? Qui c'è l'imbarazzo della scelta. Ma ne porti altri die cut? La sirenetta. La sirenetta. Questo. La bimba. E la pappa. Ma questi cuoricini che sono qui sopra, da dove arrivano? Questi cuoricini. Di make up. Di make up. Di make up? Ah hai fatto il make up. Quindi qua si può mettere, bisogna vedere il cassettino se poi ce lo permette che la bambolina entra. Questa no perché è più grande. C'è da scegliere una più piccola. Ah sono tutti dei miei? Sono tutti che vanno mai? Con un mazzettino di fiori. Sì. Oh guardate questo orsetto che bello. Solo che bisogna metterlo un po' No preciso. Un po' preciso. È troppo preciso mamma. Perché è talmente grande. Quindi o li tagliamo un pezzettino. Un orsetto più piccolo. Portami il coniglio. Quindi qui c'è da sbizarirsi con tutti questi dietetti. Portami il coniglietto. Ecco il coniglietto. Vediamo se il coniglio ci sta qui. Vai perfetto il coniglio. Guarda che carino. Quindi vado a incollare solo metà coniglio. E così poi mi rimane il taschino. Quindi vado. Perché l'orecchio deve starci dentro. Perché se no poi non entra nel cassettino. Quindi state molto attenti. Quindi vado più o meno al centro. Quindi la colla va messa qui. Ok. Sì. Non tantissima perché tanto mi cura subito. Quanti dai cat che sono arrivati qua. Wow wow wow. Dove erano spariti? Mamma. Dimmi. Ok. Dove mettiamo quella palma? Quindi? E quindi anche all'interno si possono mettere. Sì. Perché alcuni sono grandi. Quindi bisogna. Sì. La posso mettere con il gatto. Ma se la mettiamo poi da un'altra parte. E quindi la copertina di un albumino è già pronta. Questa collezione ha due confezioni di diecast. Una di 64 pezzi. Bianca un attimo. E l'altra di 43. Che ci sono tutti i personaggi. Molto molto belli. E qui invece ci sono tutti i banerini, i tab, le cornicette, coricchini. Quindi c'è da sbizzare. Sì fammi parlare. Sì fammi parlare. Parla tu dai. Vai. Guarda che ci sta. Sì. Possiamo mettere. Che ne dite? Di questa qua su quella copertina. Molto carina. Ci entra in altezza? Sì sì è precisa. È precisa. Sì sì. L'embra fatta apposta. L'embra fatta apposta esatto. E' facile. Non vado a mettere. Si può mettere anche lo spessorato volendo. Però qui abbiamo già un centimetrino più lo spessorato. Meglio di no perché mettendo dentro di dei cut. Questo qua la mettiamo come copertina. Guardate. Sì sì è precisa proprio. Fatta apposta. E poi io mamma mi mette a fretta. E qui io non resisto. Sì un attimo. Bianca li vuoi mettere tu? Sì sì. Vai a pizzicare questi. Sì. E' un amel dot. Sì. Cosa metti? Metto, metto. Aspetta che il cassettino. Metto, metto, metto un poicino. Dove lo metti il cuoricino? Vediamo. Brava. Ok. Poi cosa mettiamo? No ancora qualcuno sulla copertina. Poi passiamo dentro. Questo è già pronto. Dobbiamo trovare uno piccolino. Però solo che queste bamboline sono carinissime. Ma hanno la testolina con tanti di quei capelli che escono fuori. E non ci stanno tutti. La stellina? La stellina dove la metti. Mettila sempre qui. Sì. Metti un altro. E poi metto. Questa qua non ci sta qui sulla scritta. Perfetta questa qua. Guardate con gli occhiali da sole a forma di cuoricino. La mettiamo qui? Sì. Sì. Boh, è piccato. Quindi praticamente. Ho già fatto così. Hai già fatto così? Perfetto. Possiamo mettere qualche scritta? Non lo so. Ah, non lo sai? Sei indecisa? Sì. Magari lo possiamo mettere. Ma che ore sono? Tu non dovresti fare un po' di riposino? Sono le 22 e 15. No, siamo un grande anticipo stasera. Ok, quindi ho incollato qui sul lato che si colla per fare un pochino e andiamo a mettere questa qua. Guardate che bella. E poi, guardate questa frenetta che bella. Falla vedere ragazzi. Scusate per i rumori. Lo svantaggio di essere all'esterno è che qui vicino passa il treno. Non so se sta passando l'elicottero. Un treno contemporaneamente, credo. Quindi scusate se per i rumori. No, è troppo grande la silenetta. Non c'è stato. Eh, lo so, ma quella lì la metterebbe è un album molto bello. Con 20 anni. Si vede anche dal video la luce dell'elicottero. Eh, ma non so se sta qui. Però possiamo metterla magari qui? Ok. Perché la frutta... Bianca ha scelto di metterla qui. Voi cosa dite? La mettiamo qui? Tu credi di sì? I figli di loro? Io adesso mamma. Ok. Quindi praticamente ci siamo. Adesso mancano solo gli abbellimenti. Un coriccino rosso. Adesso mettiamo questa lì. Hai detto che la vuoi? Sono le stesse rosse. Bene. Ok. Quindi mettiamo qui la bambolina. E niente, praticamente il progetto è finito. C'è da sbizzarirsi con gli abbellimenti dei cat. Ma ci sono le abbellimenti tantissime. Sì, ma non adesso. Erika dice che ti dovevo dire che era più tardi perché adesso se no ci perdi un'ora ad attaccare tutti gli appiccichini. Mamma, dai, dormiamo? No, dai. Dormiamo qui? Dormiamo qui? No. Bianca secondo me vorrebbe stare ancora ad attaccare i dacati, vero? Non sono mai abbastanza. E quindi un'altra taschina qui. Qui andiamo ad attaccare qualcosa. Vediamo se c'è qualche moussacchiotto. Ma se no andiamo ad aprire gli altri light hat. Mamma, sì, amore. Magai. Magari. Il coniglio lo mettiamo qui nel cassetto. Questa bimba qua. Qui devo tenere per incollare. Magari questa bimba la possiamo... Ma quella bimba non è troppo grande, mamma. Secondo me, sì. Guarda che capelli lunghi che ha questa bambina. È un po' come te che ti fai lo scignone. Sì. Sì. Io in effetti mi metto il cassetto. Eh, questa non entra nel cassetto però, ragazzi. Perché mi rimane i capelli fuori. Ma non va bene. Mamma, guarda lei. Dobbiamo tagliare lo scignone. Sì. Ecco, qui abbiamo scelto un altro dai cassetto. Ricca, lo so che scherzavi, ci mancherebbe. Mettiamo questa, va bene, allora. Sì, perché posso mettere una palma. Una palma? Sì. Per fargli ombra? Sì. Va bene. Una buona idea. Adesso che fa caldo. Quindi, scelta di bianca, la mettiamo qui. Questo sarà l'albumino dove metteremo le foto della piscina o del mare. Adesso vediamo. Esatto. La stellina però, mettila bene dentro, bianca. Ok. Due namel dots messi. Perfetto. E quindi, qui c'è da divertirsi, con gli abbellimenti e foto e tutto il resto. E poi ci sono anche, sì, però questi dai cut veramente sono stupendi. Anche per realizzare delle card, proprio a misura precisa. Mamma mia, hai un altro cattolino? Questo ci può stare qui? Non ci può stare perché è grande. Guarda come riescono i capelli qui. Poi ha lo scignone. Lo scignone. Quindi, questo lo mettiamo qui. E poi vediamo sullo specchio. Ecco, cosa mettiamo sullo specchio come abbellimento? Qui ho un bel dilema. Perché qui ho messo i fiorellini. Perché Patio aveva questi fiorellini. Invece qui, cosa possiamo mettere? Un cammino. Possiamo mettere qualche coricino? Sì. Qualche scritta? Ok. Io deciderei di mettere qualche coricino. Tu deciderei. Di mettere un coricino. Quindi apriamo anche altri dai cazzi. Vediamo se... Però qui è tutto in spagnolo. La pera direi che sullo specchio non ci sta. Bianca, guarda che vai con la testa. I coricini sono troppo grossi. No. Andiamo a cercare qualcosa lì. E' piccolissimo. E' piccolissimo. Non metterlo lì che non serve. Allora, Ilania dice l'orso col salvagente. Sullo specchio? Un po' grande però. E' un po' grandino, sì sì. Sì, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Questo non sai che è così. E cos'è questo? Come è girato così? Un pesciolino? No. No, mamma, è un limone. È un limone. È un limone. Se no c'è l'ananas. Visto che comunque è divertente perché se no... No, dai capi non c'è. E stai mettendo ancora di più. Ecco, possiamo mettere questi. Guardate. Che carina, sì, quella. Un disino. Un cuoricino qui. E questo pesce possiamo metterlo qui. Che ne dite? L'ananas non ci sta? Mamma, che ne dite? Chiedi ai ragazzi cosa ne dicono se quello lo metti là. Se l'hanno d'accordo? Non lo sai. Ma le cienze. Cienze. Ah, guardate, ci sono anche questi. Che nell'albumino è proprio perfetto. Cienze. Beh, magari quella piccola tag andrebbe bene dentro... Nella taschina che hai creato. Sì. Stavo parlando di questo. Sì. Proviamo quella tua? La taghina? Vediamo se ci sta qua nel taschino. Proviamo? Sì, sì, perfetto. Se mettiamo il cordino così riusciamo a tirarla fuori. Sì, sì, le taghine sono perfette. Ottimo, brava Marta. Quindi sullo specchio mettiamo questi perché di cose piccoline... Cosa metti? La palma? Mettiamola. Forse hai messo trupacolla. Per qualcuno che non si vede. Asciugiamo col dito. E basta, eh? Non pasticciamo perché questi sono i miei progetti. Lo facciamo. Sennò poi non c'è spazio per le foto. Eh, non c'è spazio per le foto dove li mettiamo le foto. Quindi comunque le foto qua ce ne sono tanti. Un attimo, Bianca. Qui abbiamo una, due, tre, quattro. Sì, sono dodici se mettiamo sei di foto, ma anche più. Quindi di spazio per le foto ce n'è finché mai. Ok, direi che ci siamo. Sì. Quindi, ricapitoliamo. Per questo progetto dovrete quindi replicare appunto questo comode che ha realizzato Roxana. Quindi questa struttura con i mini album all'interno. Il vincolo, il vincolo opzionale invece è usare le carte Aluasid. La scadenza è quella dell'8 luglio alle 23.59, ma se siete più veloci e riuscite a farlo entro il 30 giugno alle 22.30, avrete quindi un punto bonus. Vi ricordo che c'è il prodotto contenitore con tutti i prodotti appunto che ha usato Roxana. Il video andrà anche su YouTube e quindi per chi ci segue lì, noi abbiamo sia un gruppo Facebook, una pagina, ci trovate su Telegram e su Instagram, come Marta Attacco. Ovviamente un sito internet che è www.martattacco.it dove trovate appunto tutti i nostri prodotti. Settimana prossima se non sbaglio c'è Claudia con la diretta della Challenge di luglio e poi Inditti va in pausa, meritata pausa per quanto riguarda il nostro gioco con Marta Attacco. Ci sarà poi solo la diretta dei primi di agosto e poi ci rivediamo a settembre e ricominciamo l'attività di questo gioco. Mi raccomando partecipate, vi ricordo che tutti i progetti ad eccezione delle sfide Flash possono essere recuperati e basta. Penso di avervi detto tutto. Grazie Roxana, grazie Bianca per averci fatto l'opportunità. Grazie per questo carinissimo progetto. Direi che così semplice è perfetto. Perfetto. Vuoi salutare Bianca? Ah, Cinzia ci sei tu a luglio, scusami. Ho sbagliato, perfetto. Allora ci aspetta Cinzia la settimana prossima. Va bene. Grazie allora. Grazie a tutti. Grazie per la compagnia. Buona serata allora. Ciao, grazie. Buona serata e buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte, ciao ciao. Buonanotte, ciao. Ciao. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.